Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca. È stata definita la tragedia dell'indifferenza. Si è spento dopo un mese e mezzo di agonia in un ospedale di Roma. L'artista Francesco Sandrelli, pittore di 53 anni, originario di Cortona, era anche un agricoltore. Aveva avuto un terribile incidente stradale lo scorso 6 febbraio, lungo il grande raccordo anulare. La sua auto aveva preso fuoco e nell'intento di salvarsi era stato inghiottito dalle fiamme. Tanti gli automobilisti che passando di lì avevano realizzato filmati per poi condividerli sui social. E c'è chi dice che probabilmente poteva invece essere magari soccorso in maniera più celere. Ovviamente non sta a noi insomma giudicare quello che è accaduto, ma di fatto la morte di questo artista è un po' diventata un caso. E su questo c'è anche il messaggio del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, pur essendosi trasferito da Cortona. Era molto legato a questa terra, ha detto non possiamo restare indifferenti riguardo a un episodio così. Come del resto ci è stato rappresentato. Ci auguriamo che venga fatta luce. Carabiniere libero dal servizio nota il furto di un borsello in un supermercato e ferma la ladra. È accaduto a Montevarchi, vittima un'ottantenne a cui appunto era stato rubato il borsello. Il carabiniere addirittura è inseguito in auto la ladra. Poi sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che l'hanno fermata. La donna è stata denunciata. Sono sempre di più i furti dei catalizzatori nelle auto. Sono accaduti nelle ultime ore anche nel territorio aretino a far gola. Ai ladri sarebbero proprio le tracce di metalli nobili che si trovano appunto all'interno dei catalizzatori palladio, platino e rodio. I casi nell'aretino, come dicevamo, si stanno moltiplicando. I ladri sembra che stiano agendo soprattutto nei grandi parcheggi. 22enne pluri pregiudicato, arrestato dalla polizia per l'ennesimo furto, quando invece doveva essere agli arresti domiciliari. È accaduto ieri e a fermarlo sono stati gli agenti della squadra mobile di Arezzo, assieme al personale delle volanti. L'uomo aveva rubato tre paia di occhiali di ingente valore lo scorso 27 marzo. Poi, grazie alle immagini di videosorveglianza del negozio, è stato appunto riconosciuto, rintracciato e arrestato. È stato trasportato al carcere di Arezzo e adesso, oltre che di furto, dovrà rispondere anche di evasione. E adesso invece tocchiamo un tema che fa molto discutere. L'Europa richiama l'Italia che con lo stop alla registrazione dei certificati di nascita di figli e figlie di coppie omosessuali porterà inevitabilmente ad una forte discriminazione, contribuendo alla violazione dei diritti dei minori. Questo appunto ci dice l'Europa. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di una famiglia omogenitoriale di Arezzo. La sensazione è una sensazione proprio di essere in apnea. Se qualcosa, qualsiasi cosa, dovesse succedere a me, i nostri figli non sono tutelati. Io per lo Stato non esisto, sono una mamma a tutti gli effetti. Faccio la mamma tutti i giorni, ma sono fantasma per lo Stato. Le persone alle fine discriminate in questa situazione sono principalmente i figli, i nostri figli. La storia di Valentina e Retra è la storia di tante famiglie arcobaleno. Unite civilmente dal 2013, sono mamme di due bambini di 9 e 3 anni, ma sola Retra è riconosciuta dallo Stato come madre dei piccoli. Non abbiamo mai riscontrato nessuna difficoltà dai pediatri, medici, le nostre educatrici a scuola, i maestri. Hanno sempre trattato Valentina come mamma e i nostri figli così come figli con due genitori. Abbiamo incontrato altre tipologie di problematiche. Le difficoltà sono queste, il fatto che se succede qualcosa ai bimbi a livello di salute io non posso firmare nulla, non posso prendere decisioni perché non esisto, non ci sono. Non posso prendere permessi se i bambini si ammalano e quest'anno è successo molto. Quando per esempio non posso portarli all'estero da sola. La coppia inizialmente aveva tentato la strada della trascrizione degli atti di nascita. C'è stata rifiutata, abbiamo portato il comune di Arezzo in tribunale, abbiamo perso. Quindi ad oggi l'unica nostra possibilità per vederci riconosciute entrambe è quella di fare la cosiddetta step child adoption, cioè l'adozione speciale. Quindi abbiamo iniziato un percorso di adozione. Cioè io, madre non biologica, ho richiesto l'adozione dei miei due figli e siamo ancora dentro questo percorso, che è un percorso molto lungo, dispendioso a livello psicologico, economico, con visita di assistenti sociali a casa, con i colloqui con il tribunale, che valutano e verificano se effettivamente io sono la madre dei miei figli e se sono una madre adeguata. Quanto pesa psicologicamente? È stato ed è molto impegnativo, ma ad oggi è l'unica strada per vedermi riconosciuti i miei figli e quindi la percorriamo insieme. Per le famiglie Arcobaleno sono senza dubbio settimane di passione. Prima lo stop alle registrazioni di coppie omogenitoriali, poi il parere negativo del Senato sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea di libera circolazione dei certificati di nascita ed infine la condanna del Parlamento Europeo all'Italia e il governo Meloni. Spaventano questi nuovi passi del governo? Sì, mi spaventano proprio perché non c'è un riconoscimento di tutti i cittadini e cittadine che vivono in questo paese. C'è sicuramente una volontà politica di discriminare che è forte ed è anche violenta, però allo stesso tempo c'è stata anche una grande reazione di solidarietà, di vicinanza. Quindi sia da parte dell'opinione pubblica, che è molto avanti rispetto alla politica, ma anche ringraziamo come famiglia Arcobaleno tutti quei sindaci e quelle sindache che stanno dimostrando solidarietà, che stanno anche disobbedendo alla legge. Però bisogna andare oltre questo. Cioè ci vuole una legge che tuteli questi bambini e questi bambini, quelli che già ci sono e sono oltre 150.000 e quelli che stanno per nascere e quelli che nasceranno, perché le famiglie omogenitoriali esistono, ci sono, le persone omosessuali hanno volontà di essere genitori, lo stanno facendo e lo faranno. Da oggi presso la questura di Arezzo prende servizio il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, a meglio Menguzzo, proveniente dalla sezione Polizia Stradale di Siena, che ha diretto fino al gennaio 2021. Ad Arezzo si occuperà di Polizia Amministrativa. In questa foto lo vediamo proprio insieme al nostro questore. A lui vanno ovviamente gli auguri di buon lavoro. Il Comune di Bucine si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari legati all'inchiesta che è un consiglio comunale di giovedì scorso, dopo che sono stati condivisi alcuni emendamenti del testo. Tutta l'Aula ha votato la mozione presentata dalla lista civica Alleanza per Bucine che impegna appunto il Comune in questa Costituzione di parte civile. Soddisfazione da parte della lista, una vittoria scrive per noi certamente, ma soprattutto una vittoria per i cittadini di Bucine, la cui amministrazione potrà essere risarcita per i danni ambientali e di immagine che ha subito e appunto subirà e che eventualmente verranno accertati. Adesso torniamo a parlare di Covid perché come sapete tra poco appunto il Covid verrà diciamo così declassato da pandemia a endemia, quindi una influenza come si suol dire endemica e appunto non pandemica. Ne abbiamo parlato con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo, Droandi. Non la definirei una semplice influenza perché le varianti sono sempre in agguato e non si sa perché nessuno di noi lo sa se e quanto queste varianti future saranno più o meno patogeneticamente pericolose rispetto al Covid originale, a quello che si chiama il virus selvaggio. Non lo sappiamo. Sono ancora una volta le varianti a preoccupare, mentre il Covid sembra avere sempre più i contorni di un virus endemico. Se infatti in Italia gli ultimi dati testimoniano come oggi si esimila a una comune influenza, in alcune aree del mondo il virus torna a preoccupare. In India la nuova variante chiamata Arturo sembra infatti inarrestabile. Non sappiamo quanto sarà aggressiva e quanto sarà pericolosa per tutti noi. Io credo che il Covid abbia rappresentato veramente un qualche cosa di epocale che ha dimostrato a tutti noi quanto siamo fragili di fronte ai venti di questo tipo. Noi sapevamo, perché la storia ce lo diceva dalla spagnola, che prima o poi avremmo avuto una, come dire, una, in qualche misura una nuova pandemia. Perché questo ci avrebbe, la storia questo ci insegnava. Non eravamo pronti, da ora in avanti dovremmo esserlo. I dati comunque stanno migliorando significatamente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei prossimi mesi potrebbe arrivare la dichiarazione di fine emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, che porterebbe dunque allo stop del tracciamento. È un po' l'evoluzione naturale di questa situazione. E non ci si può fare le grandi cose, ovvio. Questo è un qualche cosa che rientra nella normalità della situazione. Mi piace fino a un certo punto. Ripeto ancora una volta, dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Negli scorsi telegiornali vi abbiamo proposto la testimonianza dei genitori di Federica Canneti, la giovane 22enne morta in un incidente stradale lo scorso ottobre a Vitiano, lungo il regionale 71, che si erano spesi per sostenere la campagna sulla sicurezza stradale portata avanti dal comune di Castiglion-Fiorentino, con l'esposizione di un'auto incidentata nel piazzale principale del paese, ma anche altre iniziative. Una delle più importanti prenderà il via proprio domani, primo aprile, l'associazione DOG, operatori di strada. Di fronte a Porta Fiorentina avranno una postazione fissa con all'interno materiale di prevenzione e materiale informativo sull'alcol e sulle azioni connesse al binomio alcol e guida i ragazzi, ma insomma tutti coloro che si avvicineranno potranno effettuare anche addirittura un test che appunto simula proprio gli effetti dell'alcol. L'altro appuntamento è in programma per sabato 15 aprile. Doggy bag si chiama così, la borsetta che solitamente viene chiesta al ristorante quando non si finiscono le pietanze e appunto si portano a casa. Un modo per risparmiare, anche per rispettare l'ambiente che adesso entra anche nelle scuole. C'è una scuola pilota a retina che l'ha sperimentato. Le doggy bag per ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti arriva così dagli studenti del liceo Colonna di Arezzo un progetto di sensibilizzazione. Vogliamo portare un tema attuale e allo stesso tempo far sì che ogni fascia d'età potesse prenderne atto e quindi abbiamo proposto appunto lo spreco alimentare perché è un tema molto presente nelle nostre vite quotidiane di tutti i giorni sia in un fronte economico che in un fronte ambientale lo spreco è molto e tanto e quindi abbiamo cercato di sensibilizzarlo al massimo. Le doggy bag sono vaschette dove riporre gli avanzi una prassi particolarmente diffusa all'estero per evitare di buttare alimenti ancora commessibili ma poco conosciuta in Italia. Soprattutto tra noi adolescenti è molto poco conosciuta. Gli studenti dopo una prima fase di studio per capire l'entità del fenomeno dello spreco alimentare hanno strutturato un'azione concreta per affrontare la problematica coinvolgendo anche ristoranti e aretini. Si chiede se appunto si conosce la doggy bag e se la quantità di cibo viene sprecata comunque nelle famiglie infatti è rivolta a tutte le famiglie ad ogni fascia d'età. Una promozione che passa anche attraverso il profilo Instagram a Doggy Bag You. Gli studenti sono stati infatti formati da un'azienda specializzata in strategie di business digitale anche per l'utilizzo professionale di questo social network. Su Instagram abbiamo messo alcuni post appunto relativi allo spreco alimentare qual è il concetto e soprattutto il concetto di doggy bag e rivolgersi appunto sia adulti sia adolescenti e anche bambini. No, fermo! Hai detto la scadenza? Preferibilmente, non entro il. Ciò vuol dire che non ti fanno male, mi fanno mangiare. L'esperienza è stata già proposta a dieci ristoranti e aretini. Abbiamo deciso di far distribuire dei cavalieri che così possiamo dire, a di sopra dei tavoli dei vari ristoranti e speriamo che si possa diffondere questo bel messaggio che vogliamo mandare a tutta la popolazione. Qual è il messaggio? Non dobbiamo sprecare, solamente in futuro avanza. Uova Pasquali al reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo a donarle stamani ai piccoli pazienti del reparto diretto dal dottor Marco Martini è stato l'Inner Will di Arezzo Toscana Europea con la presidente Antonella Gallorini, la tesoriera Anna Bacconi e la consigliera Bruna Fracassi. L'Inner Will ha già collaborato con l'Asle e con il Calcit per la raccolta fondi destinati ad iniziative legate all'acquisto di dispositivi come ad esempio Monitor per la medicina nucleare e con attività di musicoterapia, oggi appunto questo dono pasquale. Torniamo in Baltiberina per parlare dell'Associazione La Gattara lo ricorderete, un caso seguito dalla nostra emittente perché appunto l'Associazione venne accusata di abuso edilizio per le casette che accoglievano circa 40 gatti casette che adesso dovranno essere demolite e allora arriva l'appello da parte dell'Associazione ad una raccolta fondi perché i lavori, diciamo così, di ripristino e che vengono comunque richiesti dalle autorità sono piuttosto costosi. Senti, i gattini quindi appunto, perché poi quello che francamente anche a noi preoccupava molto era il fatto che potessero essere liberati gioco forza e quindi possono andare per strada possono essere oggetto insomma di qualche atto Anche dei predatori perché non ci dimentichiamo dove siamo cioè sono gatti che comunque sia una volta liberati non credo rimangano fermi nello stesso punto e anche se rimanessero fermi nello stesso punto comunque siamo in una riserva naturale dove ci sono volpi, donno, le lupi quindi se io non faccio questa nuova recinzione sono esposti comunque sia a tutto quello che sono poi i rischi del vivere in una riserva. E quindi Eleonora qual è il tuo appello che noi accogliamo e al quale diamo voce insomma? Allora l'appello che io faccio è che noi stiamo abbiamo aperto una raccolta fondi sulla nostra pagina internet dove chiediamo aiuto insomma a chi ci segue, a chi ci sostiene anche un solo euro che equivale ad un caffè ma per noi è importantissimo perché entro il 4 maggio dobbiamo aver abbattuto tutto e dobbiamo aver ricostruito tutto quindi abbiamo pochissimo tempo, tanto da spendere perché abbiamo anche i materiali, abbiamo dei vincoli sui materiali da usare quindi quello che già abbiamo non lo possiamo riutilizzare e appunto in pochi giorni dobbiamo risolvere questo problema e a livello economico è importante la spesa solo di recinzione parliamo di 6.500 euro solo la recinzione, sì poi dobbiamo fare un'antifuga, poi dobbiamo fare le cucce a norma perché più di 10 cucce non possiamo mettere e quindi dobbiamo ricostruire tutto dobbiamo rifare tutto da capo e il tempo è poco perché se entro il 4 maggio questo non avviene o liberiamo i gatti e dismettiamo tutto oppure ci espropriano del terreno e ci denunciano penalmente quindi andiamo anche nel penale direi che è il caso di evitarlo senti Leonora, come possono fare nella vostra pagina social, facebook nella nostra pagina facebook ci sono i dati di un IBAN dove possono direttamente fare un versamento lì una libera offerta, ci sono i dati paypal oppure possono accedere direttamente alla raccolta del Growfoundme dove c'è scritto a grandi linee tutto e dove noi giornalmente metteremo ricevute, fatture, foto ora fra oggi e domani arriva il preventivo finale ufficiale lo pubblicheremo quindi chi vuol donare nella nostra pagina troverà anche tutti i riscontri che quello che andremo comunque a raccogliere sarà realmente utilizzato per questa causa uno dei casi più eclatanti fu la famiglia con un piccolo di appena tre anni che aveva la febbre perché c'era stato il distacco nell'abitazione della corrente per una bolletta non pagata il gestore Estra subito in quel caso intervenne con l'annuncio anche dell'azione delle bollette non solo per quella famiglia ma anche ovviamente per tutti gli altri rateizzazione straordinaria che adesso Estra annuncia sarà prolungata c'è dunque la volontà appunto da parte di Estra di concedere questo a famiglie ed imprese nello specifico la rateizzazione potrà essere richiesta fino a sette rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro siamo alla pagina della cultura il quintetto IMA per l'ultimo appuntamento di invito di sosta al Teatro Petrarca di Arezzo Dopo il tour in Messico, Austria e la prima nazionale a Modena è arrivato ad Arezzo con una doppia replica al Teatro Petrarca l'acclamato quintetto IMA della coreografa Sofia Nappi si tratta dell'ultimo appuntamento della rassegna invito di sosta a danza contemporanea d'autore in scena 5 danzatori e danzatrici della compagnia Komoko nata dall'unione di due parole Komorebi che è una parola giapponese che sta a significare la danza che fa la luce quando trapassa le foglie e collab come collaborazione quindi dall'unione di queste due parole è nato Komoko IMA è nato durante il periodo di distanziamento sociale porta lo spettatore in un vortice di poesia in movimento celebrando il ricongiungimento con l'altro questo spettacolo era proprio una celebrazione della vita partendo sia dalla memoria che dalla celebrazione del presente anche nello stare in un posto piccolo i ragazzi hanno questa piccola scenografia con questi piccoli oggetti scena quindi si voleva un po' parlare della vita e della celebrazione della vita anche attraverso il ricordo la morte in senso più spirituale che altro i cinque interpreti salgono sul palco indossando maschere d'anziani e procedono poi a ritroso nel tempo sino a ritrovarsi giovani trasmettendo con armonia e leggerezza la necessità di ritrovare un rapporto col proprio corpo di riscoprirlo vivo capace di provare emozioni diciamo che è un viaggio personale ognuno ha questo personaggio con cui evolve fino alla fine in cui si trasforma c'è questo cambio tra la maschera e la persona e ognuno ha il suo proprio viaggio la sua propria crescita nello spettacolo fine settimana con l'antiquaria questo che avvia il mese di aprile saranno anche le giornate nazionali delle case dei personaggi lustri un'iniziativa dedicata ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei grandi è promossa dall'associazione nazionale case della memoria per questo la casa museo Ivan Bruschi che appunto fa parte delle case della memoria ormai da molti anni e propone un ingresso gratuito per domenica 2 aprile i visitatori potranno scoprire la collezione del noto antiquario e le mostre che sono ancora in essere la sottilità dell'aria Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari e le banconote della Shoah storie di denaro nei campi di concentramento siamo alla pagina dello sport un paio di incognite e tante certezze l'Arezzo riprende dunque il campionato cavalcando lunga lunga delle sette vittorie consecutive sentiamo spero e l'unione credo che l'unione disponibile sia settembre per la scolice è chiaro ci sono un po' d'abitudine le porte chiuse ce l'abbiamo da due anni fa dall'anno di covid però insomma alcuni di questi non giocheranno nemmeno perché erano i bambini come reagiremo ecco a giocare in musica senza e poi io preferisco per esempio i nostri che ci accompagnano dietro anche come a Livorno erano in inferiorità rispetto agli altri in maniera tale grande però sembrava di no sembrava di no e poi non secondario il campo di grosseto era straordinario siamo in terreno siamo a misure io preferivo giocare grosseto a porta aperte ai nostri tifosi la rosa attuale non è quella è l'andata quella è l'andata era una rosa che rischiava questa via attuale chiaro se iniziamo il campionato con questa rosa naturalmente non erano in questa posizione classifica è chiaro erano problemi disciplinari problemi disciplinari te li porti dietro e ripeto io preferivo non avessero avuti almeno gioavamo là è chiaro c'è difficoltà c'è difficoltà ma come in tutte le gare è vista ancora di più per la qualità della rosa di grosseto e per la loro posizione classifica qualcuno dice no mi compri sempre la vita ma io invece a noi non ci sembra a noi ci sembra invece di aver trattato sempre la strada giusta più o meno più o meno e continuo a ripete capito il carcio una rosa o nella nostra capito in cui ho fiducia anche nel magazziniere anzi tra l'altro tutti e due molto bravi tra i magazziniere ho fiducia anche nell'ultimo e la rosa e sarei un pessimo allenatore se non se non li facessi girare se non sfruttassi tutte le le belle cose hanno ma assolutamente è giusto così e quasi tutti hanno lo stesso minutaggio più o meno insomma i dieci i sette 8 che sono stati noi fin dall'inizio hanno quasi più o meno tutti lo stesso minutaggio e non mi sembra ecco che sia stata una scelta errata assolutamente è finita l'epoca dell'11 titolare hanno la maglia incollata e se non sono morti ce l'hanno sempre assolutamente assolutamente e il sistema cercheremo di fare quello più idoneo per il Contri Grossero come credevamo di averlo fatto Contri Montesbaccato il traguardo io devo a parafrasi no ragazzi siamo su una bella autostrada ci siamo lanciati belli su una autostrada ma ci può essere un incidente anche sull'autostrada incidente anche se non c'è niente e avanti poi all'improvviso ci può essere un incidente bisogna essere bravi e continuo a ripetere sono queste due sono queste due strafondamentali se ce la facciamo a vincere queste due siamo a buon punto come tutti gli anni come tutti i posti ho fatto un allenatore non credo ad essere un allenatore che gestisce l'OEA credo specialmente da aver fatto negli anni passati indipendentemente da come va a finire sono cresciuti i giovani i giovani rispetto all'inizio Indy mi è sempre riuscito perché mi è riuscito anche in stanza io credo che siano diventati determinanti stra-determinanti per noi ed infine chiudiamo con il basket perché al Palaestra arriva il Val di Sieve c'è indubbiamente una striscia molto positiva di vittorie della scuola basket Arezzo ma insomma è vietato abbassare la guardia dopo la brillante affermazione sul campo della capolista Prato la men scuola basket Arezzo torna al Pala Sportestra affrontando per la dodicesima giornata di ritorno il basket Val di Sieve una sfida molto delicata contro un avversario storicamente molto ostico da superare nonostante il divario in classifica possa far pensare per un pronostico chiuso in realtà Val di Sieve guidata in panchina da coach Pescioli può ambire ancora ad un posto nei playoff con in campo l'eterno Chini terzo nella classifica marcatori del girone con 19 punti realizzati a partita tutto può ancora accadere per questo l'Amen non dovrà rifiatare ma mantenere la determinazione delle ultime uscite per cercare di migliorare ulteriormente la classifica in vista dei playoff l'appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per sabato primo aprile alle 19 al Pala Sportestra nel weekend infine in campo anche tante giovanili è tutto è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia e attenzione arrivederci per la cortesia per la cortesia per la cortesia Grazie.